Arriviamo a un lavoro abbastanza diverso da questi tre, che è anche il più recente, quello di Sebastiano Canetta e Ernesto Milanese, Pesce in barile, che racconta queste vicende però con un'altra chiave di lettura e soprattutto con un'altra forma di scrittura che è quella del romanzo. Carlo Otto nell'introduzione al libro parla di come il noir soprattutto può essere una forma per raccontare il reale e anche raccontare quello che altrimenti magari non si potrebbe scrivere in altre forme. Quindi ti volevo chiedere in che modo siete, perché avete scelto la forma romanzo e come la forma romanzo ci può aiutare a parlare di questo mondo, soprattutto dopo aver pubblicato un'inchiesta che è Legaland, che usava appunto un taglio molto diverso. Quindi come mai avete deciso di cambiare forma e cosa un romanzo ci può dire su questo sistema? Grazie, poi rispondo prima però, volevo almeno portarvi i saluti di Sebastiano che sta a Berlino e che quindi a proposito ha visto le ultime vicende dall'altra parte in tutti i sensi, anche perché se avete tempo e voglia vi suggerirei la lettura dei pezzi che ha scritto per il manifesto perché ha veramente raccontato cose che in Italia altrimenti non circolano. La seconda cosa a cui tengo particolarmente è che, a proposito di sgombrare il campo rispetto a manette e inchieste giudiziarie, abbiamo fatto anche un book trailer, come sapete, del libro che si chiama Pesce in Barile, ce l'ha curato Carlo Vitelloni e siamo molto orgogliosi che nei cinque capitoli del book trailer due siano interpretati da, non so se dire, avanzi di galera o collegianti, ma con Sebastiano siamo molto orgogliosi di questo e ci teniamo a dirlo ogni volta. E a chi interessa è su Youtube. L'inciso, e poi rispondo, è che Giancarlo Galan fosse nelle liste della massoneria italiana, è documentato dai tempi di Tina Anselmi, depositato in prefettura. Il problema è che il suo prefetto fa un po' fatica a elargire gli elenchi e, almeno qui, diciamocelo e non occorre cancellarlo, i colleghi non è che sono proprio tutti i cuori di leone nello scrivere di massoneria fino al 6 giugno 2014 o mi sbaglio? No, 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 siccome hai citato, ecco, altra cosa, sono anche, come dire, felice di essere qui con Renzo che è stato davvero il mio maestro di giornalismo. Noi abbiamo scritto questa cosa per la banale ragione che intanto eravamo stanchi di prendere querelle, cosa che è comune un po' a tutti, anche perché spesso le querelle sono intimidatorie nell'ordine del milione di euro e non è molto simpatico. E la seconda cosa perché oggettivamente avevamo del materiale che sapevamo che non sarebbe mai stato pubblicato così com'era, mentre in un romanzo, essendo letteratura, essendo invenzione, essendo anche fantasia, eccetera, ci si può applicare molto meglio e magari raccontare cose che, ripeto, difficilmente tuttora si possono dire. L'altra cosa che noi abbiamo, con Sebastiano, abbiamo scelto di scrivere un romanzo, anche qui, con una cosa un po' urticante, nel senso che il protagonista, forse uno dei protagonisti principali, visto che ce n'è almeno un altro, che è Igor, il piragna, Igor Borghi, detto il piragna, è uomo dei servizi che però si converte all'Islam e si converte all'Islam shita, non all'Islam sunnita. L'altro grande protagonista della storia è Grande Capo, che a proposito non è un politico, non è nemmeno uno dei mandarini di Stato o dei dirigenti regionali, però è esattamente quello che riesce a tirare le fila di tutto questo mondo che ruota intorno. Perché l'altra cosa che, secondo noi, dico noi perché con Sebastiano su questo abbiamo la stessa opinione, l'altra cosa che va detta con una certa chiarezza, è che, ahimè, non c'è solo l'aspetto di corruzione e non c'è nemmeno solo l'aspetto di quello che si chiama controllo di legalità, perché perfino nelle procure c'è una sorta di concessione unica nel controllo della legalità, e quindi forse c'è un altro problema che è quello dei pesci in barile, ovvero di chi sa perfettamente come funzionano le cose, però si comporta appunto come un pesce in barile e girano i soldi che i colleghi hanno elencato prima, ma girano anche vite, girano anche storie, attività e quant'altro intorno a questo mondo, che è un mondo tutt'altro che accademico, tutt'altro che imprenditoriale, tutt'altro che corrispondente al modello che ci hanno propinato, che è quello berlusconiano e adesso della lista Zaia, visto che è il primo partito del Veneto, e dico solo un'altra cosa e poi mi taccio, è semmai un modello sussidiario è il modello della sussidiarietà nazionale che nasce ben prima di Enrico Letta e che in Veneto si traduce nella cogestione istituzionale prima tra DC e PC o tra pezzi di DC e di PC e poi tra pezzi di Partito Democratico e pezzi di PDL, Forza Italia, chiamatelo come volete, o centro-destra, tutto insieme. E finisco davvero perché nelle 711 pagine della Procura della Repubblica è elencato in maniera abbastanza dettagliata il ruolo di, non so, mi viene in mente la consulenza di tal Davide Zoggia, per esempio, citata nelle tabelline della Procura, o mi viene in mente, sì, a parte la cena alle calandre che qui si scomodano ex ministri, ora parlamentari europei e magnifici rettori, ma nelle 711 pagine si parla della fondazione Marcianum che è l'invenzione del patriarca di Venezia, Angelo Scola, mancato Papa, visto che hanno sbagliato il comunicato stampa il giorno dell'elezione del Papa. E si potrebbe andare avanti a lungo perché la sussidiarietà nazionale, e poi veramente finisco, sono i 76 milioni che paga Mantovani per entrare nel Consorzio Venezia Nuova, ma sono 0 centesimi di euro che non paga CCC, Consorzio Costruttori di Bologna, perché non ha pagato un centesimo per entrare nel Consorzio Venezia Nuova. E sappiamo tutti a cosa corrisponde la sigla CCC. Manca la P. Grazie! 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 Grazie.